Sindaco, oggi avete presentato questa importante iniziativa che va nel senso del benessere, della salute dei cittadini. È un bellissimo progetto presentato da un'associazione che non ha finalità di lucro, che è il Legersi, che mette a disposizione le proprie idee, i propri contenuti, creando un cartellone di iniziative che vanno incontro a quelle che sono le esigenze del territorio. Informare nel campo sanitario quanti oggi magari non sono in grado di apprendere direttamente o indirettamente su problematiche del quotidiano. Dottoressa, com'è nata questa iniziativa? Guardando un po' il territorio, guardando anche le iniziative fatte dai comuni limitrofi e quindi abbiamo pensato di strutturare una serie di incontri tra professionisti del benessere, medici, psicologi, osteopata e i cittadini. Gli incontri sono gratuiti, sono gratuiti per i cittadini e sono gratuiti anche per tutti i professionisti che ci hanno dedicato e ci dedicheranno il loro tempo. Il progetto sarà articolato con una serie di incontri mensili che si terranno di martedì nella sala di Giacomo del Palazzo Baldoni alle 18.30, quindi indicativamente dalle 18.30 alle 20. Ogni incontro sarà svolto da un professionista diverso e avrà appunto una tematica diversa. Il primo incontro è appunto il 25 ottobre dove parleremo di nativi digitali.